eccoci qua signori big look da dubai il più milionario di dubai in questo video ti voglio spiegare perché sei fregato se fai soldi con metodi di guadagno come l'affiliate marketing il drop shipping e altre e altre cose del genere te lo spiego dopo la sigla non c'è la sigla allora signori questo video farà incazzare un po di gente ma non mi interessa assolutamente allora è importante capire di che cazzo si parla nella vita giusto allora molti di voi vogliono fare soldi online io vi capisco l'abbiamo voluto tutti l'abbiamo sognato tutti è stato un sogno una realizzazione personale per tutti fare i primi soldini e credere profondamente che non è neanche una cosa sbagliata che si possono fare i soldi in modo automatico e tanti dico che non è sbagliato usare questo come ispirazione ovviamente sbagliato crederlo perché non si può fare e quindi in tutti noi anch'io ai tempi non capivamo per tutti noi intendo tutte persone che hanno capito che i metodi di guadagno sono pericolosi e che a un certo punto vanno lasciati bisogna invece mettere su un'azienda vera e non solo millantata quindi tutti noi persone che non siamo finite in bancarotta che non sono finite povere o con ingentissimi casini legali siamo pochi in italia praticamente possiamo dire che non ci sono ok queste persone pochissime ok abbiamo abbiamo iniziato che hai anni fa a voler fare dei soldi quindi non avevamo soldi abbiamo detto vogliamo vogliamo fare un po più di soldini lo vogliamo fare online perché ci piace il computer perché non vogliamo andare a lavorare sotto padrone io ci ho provato non è riuscito non è stato un bel non non ero fatto per per prendere ordini e avevamo questa passione del computer e non volevamo essere che per quello che mi riguarda non volevo essere legato a un posto ancora oggi non lo sono la mia la mia società che fa milioni con la i di dollari reali all'anno anche netti mi permetto di dire è una realtà virtuale ok la big look international consulting non esiste la big look international consulting sono le persone che la compongono non ha ancora oggi un ufficio fisico quindi una realtà remota quindi io sono nella condizione adesso la mia azienda è delegata di lavorare effettivamente da dove voglio io sto a dubai perché mi piace posso andare alle cai ma posso andare in francia a parigi e lavorare da lì il mio lavoro adesso a pensare e quindi è una cosa molto attrattiva per moltissime persone e tutti noi abbiamo iniziato scrivendo su google come fare soldi online oppure come si guadagna online e tutti noi abbiamo trovato delle piattaforme dei metodi più o meno facili per portare a casa i primi soldini siamo stati tutti abbagliati dal primo all'ultimo da metodi da sistemi da trucchi da piattaforme di dubbio gusto qui anche quando molti fanno degli errori ok cascano in dei ponzi perché non capiscono che bisogna stabilire un'azienda che venda dei prodotti di servizi al mercato in modo organizzato per fare dei soldi questa cosa può essere fatta online all'inizio uno non sa tutto questo non ha la visione di insieme non sa che cos'è il marketing non sa che c'è dietro un'azienda non sa che cos'è il business non sa che cos'è la finanza personale o la finanza aziendale quello che è e quindi pensa che i soldi online si facciano con qualche trucco con qualche piattaforma segreta che semplicemente non avevate ancora trovato ora ci sono diverse cose che capitano in questo innanzitutto io penso che sia una cosa molto positiva che le persone a volte inciampino su metodi di guadagno su piattaforma io stesso avevo trovato il self publishing noi i libretti quindi mi ero messo a fare quelli è una cosa che ancora adesso sono contento di avere iniziato da quel da quel metodo lì che è un metodo che va che va più o meno bene direi che va bene per cominciare a vedere i primi soldini in qualche modo avere questa validazione che è possibile fare i soldi online ok c'è io vabbè ho iniziato nel mercato americano l'affiliate marketing nel mercato americano è diverso viva dio non è stato inquinato come il mercato italiano dove adesso c'è un'equazione affiliate marketing vendita di cremini o di cineseria ci sono moltissime persone in Italia che non sanno che quello non è affiliate marketing o comunque non solo lasciamo perdere per favore e quindi in America uno dei mantra che esiste anche in Italia penso in tutta Europa è la affiliate marketing è la roba più veloce non è vero non è nè più veloce nè la più facile è sicuramente un po più complicato degli altri perché comunque di solito bisogna mettere su un minimo di ecosistema per vendere prodotti e servizi altrui ci sono piattaforme che hanno cercato di 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 portare via questo lavoro dalle persone e di solito non finiscono bene e quindi una persona inizia a fare delle campagne inizia a lavorare su fiverr inizia a lavorare su etsy inizia a flippare i domini io gli ho fatto tutte queste cose gli ho fatto soldi in ogni modo possibile e immaginari a volte tanti a volte pochi si parla di parecchi anni fa il problema dei metodi di guadagno dropshipping amazon fba ok l'affiliate marketing con piattaformine dove io penso che nessuno passerebbe il poligrafo dicendo sì sì questa piattaforma è serie vende prodotti serie il problema di queste cose ragazzi è che hanno un inizio e hanno una fine e cioè sono cose che vanno bene anche quelle meno etiche e più strane mi permetto di dire se lasciamo da parte l'etica e la legalità è una cosa buona in qualunque modo vedere che sia possibile guadagnare da casa il problema è che se si sta troppo in questi metodi di guadagno non si capisce che cos'è il marketing che cos'è il business due cose che dovete sapere se volete veramente fare soldi online ok nessuno continua a fare soldi online nel lungo periodo con trucchetti o con metodi che non richiedono la conoscenza dell'online marketing e del business non è assolutamente possibile perché perché si fanno con gli affari e col business nel momento in cui voi non avete questa componente questa componente è delegata in modo artificioso a una piattaforma a un processo che non controllate quello che succede che a un certo punto non funziona più o a un certo punto perdete tutto di solito siete nella posizione all'inizio è normale in cui non avete il controllo degli asset per esempio ora non avere il controllo degli asset è una cosa che non vi deve far dormire di notte cioè che qualcuno possa schiacciare un pulsante privarvi dei prodotti che voi state vendendo cioè se non vi terrorizza questo non avete capito quello che state facendo vedete questa questa stranezza io conosco persone che guadagnano anche per adesso cifre importanti e loro non sono disturbate dal fatto che qualcuno con un click gli possa portare via il business perché loro non hanno capito cosa stanno facendo loro pubblicano prodotto prendono royalty fanno campagna vendono cineseria fanno campagna vendono mascherina e loro credono che stanno vendendo mascherina e non hanno capito che dietro ci dovrebbe essere un'organizzazione e un discorso anche di longevità quindi di solito non avete controllo degli asset di solito fate cose con una bassissima soglia di ingresso una bassissima soglia di per continuare a fare il business quindi si riempie di individui strani di solito vi poggiate a piattaforme o che sono piattaforme di dubbio gusto di dubbia stabilità voglio ricordare a tutti che il fatto che una piattaforma sia esistita fino ad oggi non vuol dire che esisterà domani non c'è una correlazione tra queste due cose oppure sono piattaformi enormi amazon amazon una piattaforma che va bene yes amazon vi chiude categorie e vi chiude business così e purtroppo è proprio così cioè noi e voi non potete mitigare questa cosa ok noi è un'azienda di formazione siamo i leader di mercato per la formazione sull'online marketing eccetera eccetera vedete alle mie spalle alcuni dei nostri corsi c'è il protocollo che è nel mio libro non è neanche in vendita qual è online marketing per mentecati eccetera siamo proprietari di questi asset a volte mi chiedo perché non faccio affiliate marketing perché dovrei non me lo porti via più ok abbiamo una piattaforma proprietaria siamo proprietari di un sacco di step del processo della nostra vendita non esiste modo non c'è modo è molto difficile che tu ci possa spegnere il business dall'oggi al domani ok possiamo avere problemi con una fonte di traffico ma ne abbiamo altre abbiamo una grossa componente organica che continua a portare vendite non credo che ci sia nessun altro che possa fare più di 100 mila euro netti in un mese solo con l'organico cosa che la big luca ha rifatto in periodo covid per esempio mi sembra a giugno con tutti gli aspetti o a maggio tutti gli aspetti 130 mila euro netti mi sembra qualcosa di simile solo con l'organico quindi non dipendiamo dalle fonti di traffico abbiamo il controllo della nostra piattaforma controllo dei nostri utenti controllo dei processi di vendita e tutta una serie di cose implementate va bene di solito non ce l'avete con metodi di guadagno dove voi abdicate la costruzione di certe infrastrutture perché queste infrastrutture sono done for you e voi le usate ok ora ripeto all'inizio non c'è intrinsecamente niente di male nel dire io provo a fare una cosa piuttosto che provo a fare l'altra però lasciate che io vi elenchi le criticità allora innanzitutto le persone che svolgono metodi di guadagno che può essere c'è questa bellissima piattaforma di affiliate marketing che con pochissimo sforzo posso fare tanti soldi c'è questa roba delle mascherine allora io vendo le mascherine faccio 8 mila euro al giorno c'è amazon fba e posso pubblicare poi fa tutto amazon tutte le volte in cui c'è una piattaforma che fa tutto o dove voi non dovete veramente capire che cazzo state facendo perché ragazzi cerchiamo anche di capirci di essere presenti a noi stessi per vendere le pacottaglie cinesi su facebook io non penso ci voglia einstein ci sono ovviamente dei problemini delle cose ma insomma di un mio parlare di sistema organizzato ecosistema capisco l'esigenza di farlo va tutto bene purtroppo non si può evitare di convincersi che ho parlato con moltissimi no ma perché io a livello imprenditoriale no 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 te la stai suonando e cantando il problema di suonarsela e cantarsela non è un problema di a big luca non piace quello chi se ne frega il problema è questo innanzitutto non c'è nessuno che continui a prosperare con questi metodi di solito sono metodi sono cose che durano un anno durano due anni se durano di più è un problema e poi c'è un backlash di cui adesso vi parlo trucchettini cose passare sotto le maglie di facebook creare account amazon creare così sono tutti espedienti come anche voi potete ben immaginarvi ok e va bene iniziare da quelli vedere i primi soldi io non sono d'accordo però potrebbe andar bene il problema è non durano secondo vi lesionano il cervello questa è una delle componenti secondo me più ignorate io l'ho visto succedere ogni singola volta conosco pochissime persone a cui non sia successo cioè se voi vi abituate al trucchetto all'espediente alla campagna diretta acquisto avendo incasso spasso non se ne sono accorti allora modifiche voi vi portate dietro questa mentalità in qualunque cosa che fate e sarete incapaci di fare un vero business di qualunque dimensione perché in qualche modo per fare un vero business dovete finalmente vendere prodotti e servizi che interessano al mercato e che non sono pubblicizzati come a e poi sono b ok posso citare il caso delle mascherine le mascherine chi le vendeva conosco molte persone che con il dropshipping hanno fatto un sacco di soldi primo non vendevano veramente mascherine truffavano le persone incassavano non recapitavano i prodotti oppure recapitavano facevano recapitare i prodotti ma non erano quelli pubblicizzati ma voi pensate che una roba del genere possa andare avanti? cioè voi lo chiamate business? non lo è ok? questa mentalità del trucco del sotterfugio del del fregare la mentalità del furbetto ragazzi voi non ve la togliete più tenterete sempre di inculare il socio appena vedete i soldi fate di tutto perché e direte le bugie e venderete cose che non ci sono venderete supporti inesistenti venderete non ce la fate chi ha fatto ne conosco di persona soldi ingenti perché è possibile fare soldi ingenti con dei trucchetti costantemente ha delle lesioni cerebrali dalle quali non si toglie l'investimento ok se voi siete abituati a investire poco e guadagnare tanto o a marginare subito e non vi siete mai trovati nella situazione reale di ogni azienda di dover investire per il lungo periodo per cose che frutteranno tra un anno tra sei mesi voi come lo fate un business reale dove ragazzi non si margina dopo due ore dove non dove dovendo creare a un certo punto tu gli asset i sistemi i processi devi anche pagarli non si tirano fuori più non sono capaci non lo sono semplicemente quindi è una cosa che vi che vi spacca cerebralmente un'altra cosa che vi dà una sensazione di falsa competenza posso citare un caso io facevo high ticket affiliate marketing concetto che ho introdotto in italia vabbè lasciamo perdere con una una società ok una società americana che si chiamava mobe oggi è defunta hanno fatto una class action nei confronti di questa società c'è chi dice no mobe era un ponzi non c'è nessuna accusa di ponzi non c'è nessuna accusa di niente c'è un'accusa di truffa e la truffa era che la maggior parte delle persone che usavano i programmi mobe non faceva soldi potete andare a vedere la sentenza e obiettivamente mobe spingeva parecchio per non per far andare le persone però le persone andavano in debito per comprare i programmi di questa società ora il modo in cui era organizzata questa società era un modo obiettivamente piuttosto automatico dove se avevi un seguito potevi fare effettivamente dei soldi in modo piuttosto piuttosto semplice non tutti agivano in buona fede ma la cosa fondamentale è che alcune persone con una visibilità posso citare il caso di john ciao per esempio john ciao faceva un sacco di soldi con questo metodo qua era più o meno in realtà il 70 80 per cento della sua fonte di guadagno mio caso era al 15 per cento perciò quando sono stato privato di quei 30 35 mila dollari al mese mi sono girate le balle però poi sono andato a fare stavo già facendo altro quindi continuiamo a farlo ed è anche uno dei motivi per cui non mi sono mai focalizzato al cento per cento su quell'azienda perché non avevo il controllo ok quindi io non lo faccio e mi sembrava anche un po troppo facile ok benché i programmi non mi dispiacessero benché la formazione che erogava mob era una formazione assolutamente valida molto molto costosa questo sono pronto a dirlo ma fa niente che cosa è successo che moltissime persone che erano immobili non hanno più saputo reinventarsi cioè quando gli è stato tolto una piattaforma che aveva effettivamente un'auto un'automaticità e un'automatizzazione piuttosto importante alcune persone che credevano di essere dei marketers credevano di essere bravi credevano di essere degli esperti semplicemente avevano una piattaformina che per il metodo che c'era dietro faceva tutto questa piattaforma perché tu mandare il traffico loro li chiudevano eccetera eccetera è tutto troppo facile va bene e questo è un problema e questo è un assoluto problema quindi e i soldi online ragazzi si fanno con un'azienda tutti coloro che usano io vi posso dire ragazzi che le persone che fanno soldi veramente online hanno delle aziende ora lasciate che io vi spieghi in questo video cosa non è un'azienda perché purtroppo nel mercato italiano si vive di queste buzzword no di queste parole nessuno sa che cosa vogliano dire e tutti ci capiscono veramente poco allora voi non dovete dire di avere un'azienda dovete averla che è un po diverso primo se i prodotti che vendete non sono vostri c'è un ricambio di questi prodotti ogni mese ogni settimana e possono privarvi di questi prodotti domani mattina con un click voi non avete un'azienda potete raccontarvela suonarvela manipolarvi fare la ripetizione saltare sui tappeti elastici mentre urlate le incantation dire sono un imprenditore siete vulnerabili va bene come dice anche brian kurz l'azienda non è il prodotto il brand non è il prodotto quello che non avete controllo dei prodotti che vendete e cioè ci sono quelli che ci sono amazon avviene ci sono quelli che ci sono su alibaba se no non ci sono non li puoi vendere amazon può schiacciare un pulsante ed eliminare una categoria e lo fanno ok porca miseria voglio dire cioè e tu capisci le persone non capiscono quando sono lì che dicono ma sì effettivamente è vero effettivamente è vero minchia questo vuol dire che tu potresti posizionarsi sui 100.000 euro netti al mese qualcuno schiaccia un pulsante e non c'è più niente e beh minchia cioè consentitemi no quindi non avete il controllo se non avete il controllo dei prodotti non vendete prodotti vostri se c'è un ricircolo di prodotti strano che non sono vostri non c'è l'azienda nel caso se non avete il controllo dei anche i sistemi ok di pagamento il fatto di non avere il controllo dei soldi ti deve pagare una piattaforma è un problema ora se ti devi pagare un processore di pagamento come stripe è un discorso se ti devi pagare una piattaforma terza vi posso raccontare delle storie di orrore qui non la finiamo più vi paga finché vi paga e vi paga finché vi paga anche amazon se vi chiude l'account prima di pagarvi cosa fate che fate causa da amazon ora amazon di solito vi paga anche dopo questo ve lo dico per esperienza personale cioè vi dà quello che che avete guadagnato ma non è detto magari dite no dice no vendevate delle cose che non ci piacevano ci teniamo i soldi non parliamo neanche delle piattaforme per favore di affiliate marketing perché ci sono delle storie di di orrore assurde e pazzesche ricordatevi una cosa se fate business con piattaforme che non sono amazon anche amazon può capitare ma piattaforme anche diciamo piccole cioè non non di grido queste piattaforme potrebbero essere bloccate con perché vendono prodottini che sono truffaldini perché vendono in modo che non va bene perché come per esempio con mob e gli fanno una class action e gli dicono la maggior parte le persone non guadagnano poi non davano i rimborsi questo non lo sapevo e chiudiamo questa attività e vi bloccano i frizzano i soldi ragazzi non è divertente non è molti lasciavano i soldi nel wallet di mob per esempio perché non volevano pagarci le tasse perché hanno perso dei soldi io stesso ho perso 25 mila dollari perché dovevo ricevere l'ultimo bonifico che non era arrivato e va bene eccetera 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 quindi sarete lesionati nel cerce dopo un po va bene iniziare e questo è uno dei motivi per i quali io continuo a dirvi non eccoci qua dicevo non imbastarditevi sul cosa il modo migliore per iniziare a fare soldi online prendere un corso come online marketing permette catica mazza becco alto così con tutta la componente digitale sulla piattaforma e senza farsi prendere dal panico capire che cos'è l'online marketing e qui arriviamo al punto focale per accumulare ricchezza e per vendere c'è bisogno della competenza dell'online marketing ok questo è vero sia per attività online che per attività offline più voi posticipate questo è l'inganno dall'inizio e più dura e più è un problema più voi posticipate lo studio serio ragazzi non millantato non io so già tutto perché me ne occupo da dieci anni non ama le informazioni le trovo anche gratis su internet è tutto ovvio lasciatele perdere queste evidentemente non è così sennò saremo tutti ricchi hello prova microfono dovete veramente studiare fare ripetizione e capire che cosa c'è dietro un business online punto non c'è un altro modo per fare sta roba qui non esiste un altro modo per fare queste robe qui chi è arrivato troppo dopo con dei metodi di guadagno si è visto o frizzare i soldi per non dire andare in galera oppure semplicemente chi fa tanti soldi in un altro modo si risputtano e non fa niente non c'è da stupirsi del resto che moltissime persone che guadagnano benino con metodi metodini non investano per esempio che non ha la mentalità tu come puoi avere la mentalità di costruire qualcosa a lungo termine facendo il trucchetto ogni giorno capite che queste due cose sono antitetiche cioè quando beccano i ladri che ha rapinato le cade non avevano i soldi investiti per il lungo termine perché perché semplicemente non c'è a livello computazionale nella loro testa non c'entra questa roba qui ok quindi più tempo passa e più voi posticipate posponete lo studio dell'online marketing del business se ci vantiamo di avere il miglior prodotto ad oggi sul mercato perché è il più completo perché non potete studiarlo in modo settoriale più voi lo posponete e più state ritardando il vostro accumulo di ricchezza veramente il guadagnare non c'è un altro modo se ci fosse un altro modo come dico sempre ve l'avrei già venduto ok quindi ci sono metodi piattaforme ci sono cose non sono tutte uguali non sono tutte uguali ci sono per esempio piattaforme ad oggi usate in italia dove io non ho nessun tipo di io ho già fatto le mie previsioni sul su quando verranno chiuse per esempio perché verranno chiuse e chi guarda questo video dice come mia cosa appena detto e non sa questa cosa è manipolato è pazzo cioè tu lo sai vero che certe cose verranno chiuse non possono durare non è possibile vendo mascherine su facebook non è sostenibile andare avanti faccio le truffe delle suonerie e poi chiudono dopo un po' è finito cioè ti beccano faccio delle cose che sono strane vendo prodotti in america hanno fatto una classe pensate che lo pensate che lo paragonate questa cosa per chi per chi per i principiante non capirà certe allusioni ma per chi invece ha un minimo non le mani in pasta gira così capisce pensate che in america hanno fatto una classe action a un tipo mi sembra che non vorrei dire kevin jeng adesso non vorrei a un tipo che vendeva delle cose perché aveva dichiarato che i droni che vendeva erano made in usa e invece erano fatte in cina in america class action questo è neanche la è sotto il livello della normalità per il panorama e commerce italiana cioè questo è per un italiano nella normalità millantare le cose fa quindi occhio quindi i metodi di guadagno le piattaformi non sono tutte qua amazon non è uguale a piattaforme di livello così arrabattate che ci sono finché ci sono però occhio a qualunque livello che a qualunque livello state attenti io io per esempio anche nel mercato americano perché per esempio i vari guru ci sono per un anno ci sono per due anni poi spariscono perché sparisce il metodo di guadagno che insegnava dopo un po non c'è più e non possono riciclarsi perché credendo di essere esperti a fare altro poi quando ti chiudono il trucchettino che invece era tutto automatico voglio dire anche un pinguino poteva farlo e poi non hai la non hai la mentalità per fare certe cose cioè adesso devo pagare 30 mila euro 40 mila euro di traffico aspettare due mesi ma come no ma potrei perdere come quando facciamo i investimenti pubblicitari per la big look no quando devi fare un evento e ci caghi dentro più di un milione di euro l'evento e le vendite dell'evento le fai dopo aver aver speso i soldi per l'evento sono le robe investimenti no non per forza intelligenti nel caso degli eventi ma comunque citiamole va bene quindi occhio a quello che fate l'affiliate marketing special all'italiana maniera notoriamente fatto con più o meno due piattaforme ok le sue criticità sono immediate ok prodotti che non arrivano prodotti che non sono quelle prodotti che non non fanno quello che sono pubblicizzati fare insomma non penso di dover citare queste cose qua a parte fatto il casino che si è creato su facebook mi duole per esempio informarvi che la situazione ad oggi italiana è detta che voi purtroppo dobbiate avere degli account di riserva su facebook farmatic cioè purtroppo è una realtà in america voi sapete non sai neanche che cazzo siano queste robe qua ancora adesso le sezioni su facebook in realtà dei dei corsi italiani non contengono oramai quasi più addirittura ha ragione ormai delle informazioni sui facebook ads no che cosa vuol dire questo che ormai le informazioni sui facebook ad facebook ads quelli sono ormai ci sono solo informazioni su come non farsi bannare creare account fake che hanno addirittura questo mi duole di la loro valenza perché oramai sia talmente sputanato il panorama no tra drop shipping affiliate marketing di merda venduta come cose che non sono merda gli altri chi sono quelli che fanno il non mi ricordo più vabbè facebook è diventato un ok quindi questo crea anche dei problemi ma è chiaro che la cosa non possa andare avanti cioè si capisce da solo ok che certe cose non vanno avanti amazon ok amazon va benissimo per fare il business ma sapete quante persone combinano casini su amazon organizzano truffe mettono un prodotto che in realtà è un libro e questa era un'altra casa bella ma l'hanno spiegata non fatela perché vi bannano cos'era più che tu vendevi ah sì sì cioè se tu vuoi vendere esempi microfoni come questo ok per esempio tu fai una foto dei microfoni come se fosse vera ma in realtà è la copertina di un libro quindi a casa gli arriva il libro e non il microfono ma loro pagano quanto un micro è una roba malata del genere no e voi pensate che queste persone qua non rovinino il mercato purtroppo quando ci si può affidare e abdicare il network marketing perché il network ha così una cattiva reputazione perché essendo essenzialmente un done for you dove voi dovete solo trovare gente che non è assolutamente facile farla entrare entrano cani e porci quindi poi hai guardate nel network marketing quante volte le persone dopo due anni sono in aziende diverse perché la gente salta di palio un frasco non sto dicendo tutte le aziende ci sono anche aziende serie persone serie va bene ok quelle ci sono sempre ma il sottobosco come ogni due anni devono passare da avendo questa opportunità del momento le macchine le macchine gratis dove sono finite più due anni e mezzo fa vedevo un'azienda sponsorizzata macchine gratis ma non ci sono più perché non esistono non è sostenibile tutto ciò che si basa su trucchetti piccazzatine così ve lo chiudo no ed il problema di quando vi chiudono e vi chiuderanno tutte le varie piattaformuncole che voi usate dalle cripto no quelli di due anni fa cosa si chiamava più quella roba lì no c'era un time to buy buy chiuso l'han chiuso cioè finito no consigli pratici primo se voi fate delle cose borderline non non faccio giudici giudizi per forza etici anche perché non li devo non li devo dire io giudizi etici primo non lo direi in giro come idea è secondo ragazzi è di fondamentale importanza non raccontarvela ma non raccontarvela non per l'etica perché non raccontarvela dice ok io adesso sto guadagnando perché ho culo e c'è una situazione di mercato in bolla e ci sono delle cose che non vanno bene se voi invece dite no no perché io sono un professionista del marchio sono un prenditore quando poi vi va via poi non avete siete disarmati facendo un trucchetto intanto studio cose serie per esempio no non raccontatevela cioè se sono cose borderline non sono trucchettini non sono cose che si è vero quest'anno è vero da sei mesi che qua ma vedete anche perché perché voi lo sapete perché chi fa soldi con piattaformuncole lo sa dai o è scemo lo c'è ce l'hai dietro io commobe per ce l'avevo dietro qui dicevo dietro il cervello c'è questa roba qui è troppo semplice troppo troppo automatica c'è stato un momento in cui ho detto guarda per i soldi che sto facendo per la facilità come faccio ripeto niente di legale di morale c'è ti mandavano a casa dei pacconi con un sacco di robe c'erano delle librerie purtroppo non posso mostrarvele perché i pacconi non li ho qui e online è cascato tutto ok erano centinaia di ore di formazione cioè non era una roba che stava per aria era troppo automatico c'è tutto detto guarda io faccio 30 35 mila dollari al mese netti quindi volume d'affari da triplo potrei dire faccio 90 100 mila al mese quindi potevo dire che facevo un milione con l'affiliate marketing ma sarebbe falso ma che importa ormai nel mercato queste cose mi rendo ho detto una cazzata facevo un milione all'anno anzi no facevo 8 milioni all'anno perché i numeri ormai hanno questo livello di pompaggio è vero e e quindi a un certo punto ho detto ma io fossi stupido a fare i corsi d'azienda i venditori le robe corsi in varie lingue farmi un culo così per studiare andare in america dare da dann fare delle consulenze ma io faccio solo questo però c'è questa roba qua a me sembra contraria a tutto quello che ho studiato io di persone che sono diventate ricche perché spedivano traffico poi andavano sull'amaca non ne conosco perciò lo promuovo in sordina però intanto faccio quello che che faccio meno male che è successa questa roba qui meno male che altrimenti sarei stato assolutamente fregato come sono stati fregati tantissimi altri che non sapevano più cosa fare e che non erano buoni a fare niente perché prima inviavano solo traffico ragazzi inviate solo traffico ci pensano loro è un problema perché non può funzionare così il business funziona così fino a un certo non è un business soprattutto fino a un certo momento poi arrivano a qualche bella mannaia quelli che promuovevano mob in modo poco etico perché obiettivamente la pompavano troppo sapete che hanno fatto gli hanno congelato i conti gli hanno rogato i soldi all'indietro quindi dopo anni immaginatevi accumuli 1 milione 2 milioni 3 milioni pulito quindi hai lavorato per niente più tempo passate a cercare di circumvent come si dice circumvent non è circunnavegare circunvent vuol dire contravvenire e passare dietro a delle regole ok non funziona non funziona può funzionare e non è il discorso né religioso né morale è semplicemente così che quante volte voi avete fatto delle robe l'avete veramente fatta franca ve lo dico io zero volte mi beccano sempre la realtà è che tutti vengono sempre beccati in realtà sappiamo tutti quindi non facciamolo se non avete controllo degli asset state attenti se guadagnate in mano troppo facile state attenti se non avete il controllo state attenti se non avete il controllo state attenti avete capito che se non avete controllo dovete stare attenti se avete posizioni fiscali io ci sono dei business che secondo me per farli dall'italia bisogna avere dei problemi mentali io facciassi certi business che ho visto di persone che stanno in italia avrei minimo 17 panamensi con il conto in lichtenstein con però l'holding nel nel cazzo di isola del canale e con le azioni al portatore svizzere e io vivrei dentro un bunker perché anche lì non ci si accorge più di quello che si fa casi sono quelli che fanno le opzioni binarie ricevono i soldi in italia io dico ma tu stai scherzando quelli che magari vendono le paccottaglie e si fanno arrivare i soldi nella banca italiana e al che è norma e lì parte la spiegazione perché in realtà perché te la devi spiegare se tu sei in italia e vendi le mascherine col drop shipping incassi dei soldi delle mascherine appena ti arrivano quei soldi tu entri in giustificazione in negazione per forza se no ma perché in realtà il business c'è perché in realtà le mascherine sono comunque di buona te la devi raccontare per forza per forza so come fai se no come fai quindi andrete avanti poco partite da quello che volete la mia a studenti che guadagnano di più il pattern che hanno iniziato da subito a studiare non è in marketing studiare materiali big look il duncan li vedete qui ci sono un sacco di video gratuiti studiare veramente come cazzo è come la borsa la borsa dovete investire per il lungo termine lentamente tutti i mesi è così che si diventa ricchissima che fanno il trading speculativo eccetera ce n'è uno su 500 milioni che diventa ricco cioè non è così che si fa va bene io spero che questo video vi aiuti signori io sono big look il più milionario di dubai arrivederci ciao 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 ciao